I am human and I need to be loved All my hope is good Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video con la mamma E con Gloria E come avete visto dall'intro Questo è l'inizio della serie di video che vedrete sul mio canale Perché questo sarà il primo della serie Fairfax Ossia i fatti di Fair Vi racconterò varie cose In questa puntata parleremo della wick Della magia E di tutto quello che appunto ci ha avvicinato a questa Della nostra esperienza in questa cosa Vi ricordo di attivare la campanella per le notifiche Per sapere quando caricherò il prossimo video E ovviamente se non siete ancora iscritti al canale Rimediate subito entrando a far parte della Fairfax Cliccando al bottone iscriviti qua sotto ovviamente Io direi di iniziare il video Quindi spero vi piaccia E ci vediamo a fine video con i saluti Muah, ciao Ciao Se puoi dare iniziare quando vuoi È la prima volta che mi trucco davanti alla videocamera Con la mamma Idem per me Vero? Fai davanti alla videocamera con le softbox Mamma Oh Mi fa strano raga Raga, uo Iniziamo a parlare del succo di questo video Quanti anni sono passati? Da quando abbiamo iniziato Da quando abbiamo iniziato A praticare la wick Con passione proprio Esatto Tanti anni Nel 2003-2004 Le sottoscritte passeggiavano verso il lungo fiume Lago Insomma Chiamasi Lea Sulla Lea di Sesto Calende Esattamente E videro questo bellissimo negozio di nome Il Bosco Incantato Vedevamo fatine, cose esoteriche Ci ha subito attratto Perché io e la mamma siamo sempre state appassionate di stregoneria Chissà perché Ci siamo entrate, no? Io poi comunque avevo 13-14 anni Entrando abbiamo subito Almeno io mi ricordo che c'era questa ambientazione proprio con questo fumo Sapete il ghiaccio freddo, no? Che fa quel fumo C'era questa ampolla con il fumo che usciva Una musica bellissima Tipo celtica E tutto questo negozio con un soppalco Aveva mi pare anche, vero? C'era un soppalco pieno di libri Pieno di oggetti Quasi un po' cupo, no? Dentro Perché era illuminato da delle luci gialle Lampade strane C'era un po' di verde Sembrava quasi anche nel bosco Perché infatti era È vero, è vero Infatti il bosco è incantato Ed era bellissimo quel negozio Quando siamo entrate a me A me mi ha messo una pace assurda Era bellissimo Perché l'ha chiuso? E da lì abbiamo chiesto che cosa fosse Perché io e la mamma Non è che siamo persone che entrano Si fanno un giro di strane Ma no, noi chiediamo alla gente La storia della loro vita E quindi lei gli aveva chiesto Ma che cos'è questo negozio? E allora il tipo t'aveva spiegato, no? Cosa t'aveva detto? Trattava cose di magia Quindi aveva anche gli elfi Esatto Vero, aveva le statuine Sì E poi ci ha fatto vedere un po' di cose Aveva anche tipo anche queste Medaglioni Le pietre Le pietre Aveva un po' di tutto E ci ha spiegato cos'era la wicca Esattamente E noi la cosa? Streghe! Perché i tempi eravamo fissate con streghe Erano gli anni in cui streghe aveva spopolato Ed era uscito comunque in Italia già da un po' Quindi ci siamo appassionate subito Ma mamma ha comprato un po' di roba Le regole di fattorazia O ha preso libri Mica libri Sì perché volevo capire bene Cioè cosa fosse Cosa fosse Sì Sono sempre state menti aperte io e lei Sempre pronte alla sentire La ricerca del No? Sì Di qualcosa che ci potesse dare bene Dell'ignoto Perché per noi quando non conosce una cosa è ignota Ah sì Quindi E da lì ci ha Ci ha tratto questa cosa Abbiamo iniziato a fare i nostri primi riti Un po' fatti alla Carlona Vabbè normale Perché non sapevamo Ci siamo inizializzate Sì Mi ricordo Come streghe E come Ti ricordi come abbiamo fatto? Abbiamo seguito quello che diceva Il libro Facciamo vedere i libri tra l'altro Wicca Questo è stato il primo libro che la mamma ha preso E che ci siamo lette E che ovviamente io piccolina Non avevo questa gran voglia di leggere Però quello che faceva lei la figlia faceva In pratica c'è l'introduzione Spiega cos'è come ci aveva spiegato Il nostro amico Esatto Ve lo straconsigliamo Tra l'altro per iniziare È un bel libro Professionale Nel senso che proprio Spiegato bene E poi Man mano ci sono le varie Come dire Fasi Le step da fare E come iniziare Voleva essere una wicca Abbiamo iniziato a capire Cosa fosse l'apertura del cerchio Quindi già ci immaginavamo Sempre gli anche streghe Che aprivano il cerchio Con il loro rituale E in tanti mi hanno chiesto Su Instagram Che cos'è il cerchio Perché Che cos'è vuol dire Perché si ha Apre che cosa significa L'apertura del cerchio È una cosa Di protezione Che fai Dove all'interno poi Esegui i tuoi I tuoi riti Diciamo No Sì Puntualizziamo che si parla Di magia bianca Quindi bene Non male Aprende il cerchio Si dicono Delle parole Delle parole Delle parole E Non delle prole Non delle prole Si dicono Si dicono delle parole E si fanno dei gesti Per tre volte Bisogna giusto Fortificare L'apertura del cerchio In senso orario E per chiuderlo In senso orario Ci siamo consacrate E ci siamo consacrate Anche il nostro altare Sì naturalmente Tu Adesso stiamo spiegando così Però Prima di aprire il cerchio Vai spiegate Perché io non mi ricordo così niente Allora Prima di aprire il cerchio Volevo farlo con l'esto video Vai Prima di aprire il cerchio La prima cosa da fare Cos'è Prendere tutte le cose Che ti servono Per Fare i riti Ok Per cui Preparare un altare Che poteva essere fatto Anche per terra Dove sopra Si appoggiava appunto Delle scodeline Con il sale grosso Che simulava la terra Che voleva dire Significava la terra Sarebbero i quattro elementi Terra Aria Fuoco Acqua Terra Aria Era un incenso Fuoco Una candela Quindi la fiamma Acqua Acqua Quindi era l'acqua Di sempre in questa ciotolina Per purificare gli oggetti Di protezione O che comunque Servivano A una wicca L'abbiamo fatto All'interno del cerchio Con questi quattro elementi Poi da lì abbiamo iniziato A capire Come fare Cosa ci serve Mammina Il cabutli Ah per rire Vabbè puoi usare È grosso Ah eccolo qua Anche questo Che bello Che ci facciamo Questo È stranissimo Comunque Niente Da lì Ah poi Era la cosa Fichissima Che mi ricordo Quando aprivamo il cerchio Poi stavamo dentro Adesso io non mi ricordo Il primo rito Che abbiamo fatto Comunque Ho una memoria Un po' così Tipo Come quando sogni Che vedi tutte le cose Un po' fuscate Un ricordo un po' fuscato Però mi ricordo Proprio quando Nel libro Ti consiglia Di preparare qualcosa Innanzitutto Spieghiamo Che quando Fai questo tipo di cose Devi essere pulito E quindi abbiamo pulito L'ambiente Pulite le stesse Non è che fosse spol Però comunque Gli si fa una ripassata Esatto È giusto proprio Per simboleggiare Esatto Poi una bella doccia E indumenti Pratici E comunque Con colori Che Chiari Quindi ci vestivamo Di bianco E poi lo voglio rifare E poi dopo Entravamo Facevamo questi Questi riti Queste consacrazioni E chiedevamo Al dio E la dea Delle determinate cose Ad esempio Per me a scuola Chiedevo di andare bene O c'era un ragazzo Che mi piacevo Facevo il Il coso dell'amore E io avevo preso Un altro libro Che facciamo vedere Che è ad esempio là dentro Si chiama Giovani streghe Ed è un libro Che per i ragazzi Ai tempi Per me andava bene Perché era di una lettura Molto più fluida Rispetto a quello Di Scott Cunningham E ovviamente Era un pelo Cioè è un pelo più frivolo Perché comunque Parla della magia Come se fosse un gioco Però aiuta comunque Ad avvicinare Chi Come me Ai tempi era più piccolo Alla wicca Sessi E aiuta a star bene E la cosa che ci piaceva Era proprio questo Che non ci legava A una Qualcosa che dovevi fare Dovevi sentirti pentito Dovevi sentirti In colpa In colpa Abbattuto Chiedere scusa Ma semplicemente L'unica scusa Che chiedevi Era quando Strappavamo La vegetazione Che ci serviva Per poi fare i riti Tipo la salvia Il rosmarino Quindi chiedevi scusa Alla natura È proprio una pratica Talmente bella Talmente positiva Che ti spronava A vivere meglio E essere un po' più Leggera nella vita Infatti Ci siamo un po' allontanate Col tempo Perché io sono cresciuta Ci sono stati poi Dei problemi in famiglia Tra slochi Ci siamo un po' Persi di vista Questo Questa Questa cosa E a me è dispiaciuto Un sacco Infatti ultimamente Sto riniziando E voglio riniziare Anche con la mia mamma Perché è una cosa Che ci ha sempre Fatto sentire Anche più vicine Tra di noi I minerali Che ci siamo avvicinati Perché comunque C'erano dei riti Dove Richiedeva magari Non so Quarzo rosa Quarzo rosa Metista Oppure Lapislazuli Al posto di Oppure il quarzo Ialino Sì sì E quindi Con la scusa Abbiamo anche conosciuto Questi minerali Il bellissimo mondo Di minerali Di minerali Io ho una cosa Che avevo comprato Mi è rimasta ancora Da allora E questo qui Il calcedonio Questo qui Che sembra un orecchio Ma in vero Con le pietre Sono anche salutari Tra l'altro Se tu le metti Nell'acqua Rilasciano Queste Queste Diciamo Non so come vengono chiamate Come vengono chiamate Ma io nel video Del minerale Ho spiegato Quasi tutto Abbiamo fatto Le carte Cioè io Lei è sempre stata vera Sei sempre stata appassionata Di tarocchi Le rune Purtroppo Non le ho trovate Perché Abbiamo fatto anche le rune Eravamo Eravamo andati Sulla Lea Appunto Dove c'è il fiume A prendere Questi sassi Esatto Tutto dalla natura Che ci spiravano Che avevano già Delle linee Sopra particolari Mi ricordo Che Non mi ricordo Dove che abbiamo letto Che ci voleva Cosa gli ho messo Dallo sputo Di combi Per Per legarle a me Quindi Dentro nel colore Avevo fatto Lo sputo Forse me lo ricordavo Lo sai Sto male E va bene Che le hai Diennizzate Erano le mie Per non farle Cioè Per personalizzarle Invece le mie Bellissime carte Sono disegnate Da me Sono le principali Per leggere Il futuro Il futuro Sì Più o meno Ma anche Magari Che fare delle domande Di cose che volevi sapere Subito Come andavano Come Come potevano andare Avevamo anche fatto La tavola Ouija Noi la usavamo Per parlare con i nostri Angeli custodi Che erano Omael E Eiael I nostri angeli custodi Facevamo delle domande Anche qua Inerenti al presente Al futuro O anche al passato Tramite il pendolino Che mamma aveva O a tuttora Ne abbiamo portato Tutte in questo video Perché mi avete chiesto Di parlarvi di queste cose E ho detto Vabbè Trucchiamoci Mentre E questa è la tavola Ouija Che ha fatto la mia mamma Con un pezzo di legno E qua dentro c'è Il pendolino Che mamma usava Ai tempi però Usava il quarzoialino Mi ricordo Al tempo Ho sempre usato Questa catenina Che ho qui Con il quarzoialino Io vi giuro Che mia mamma Stava ferma Il pendolino Si piegava Cioè faceva così Si piegava Andava sui numeri Sui numeri Sulle lettere Ed era bellissimo E questo è il pendolino Perché comunque Avendo la punta È più semplice Farlo indirizzare Da Queste entità La cosa bella È che Questa cosa Ci ha avvicinato Anche agli astri Alla luna Soprattutto Da lì Io mi sono innamorata Tantissimo Della luna Anche perché Determinati riti Andavano fatti Sotto la luna Con luna calante Con luna crescente Con luna piena Quindi ci sono Varie fasi della luna Che servono Da Da quello che Devi puoi fare Giusto? Si Infatti utilizzavamo questo Ci sono segnate Tutte le Le date Per quando Per le feste Da feste Le beltane Esattamente E dove comunque C'erano Le lune piene Una crescente Una calante Infatti Questo stesso simbo Questo stessi Questa stessa cosa La voglio riprodurre Sul ceppo di legno Che vi avevo fatto vedere Nel video Incidendo il ceppo di legno In modo che poi Posso mettere Tutti i miei quarti I miei minerali E fare i miei I miei riti Insomma Voglio proprio Come vi ho detto Riniziare Perché mi manca tantissimo Questa pratica E mi faceva tanto stare bene Mi ricorda La mia adolescenza Perché poi Mi ricordo Quando andavo a scuola Mi portavo i pacchettini Di cose O sotto il letto Mettevo pacchettini Di cose Che per i riti Servivano Ad esempio C'è incantesimo Non chiamarmi O incantesimo Chiamami Io li avevo fatti Infatti è la pagina Come vedete Più schiacciata Cioè quella che si apre prima Ci sono un sacco di robe diverse Per ogni tipo di pratica Di magia E quello che ci stavamo dicendo Io e mamma La cosa bella È che Tutto questo Fare Cioè non è tanto il fare È il crederci Ed è quello che smuove Che smuove Esatto E infatti volevo arrivare Vai vai Io Io a quel periodo Lavoravo Dalla Giussi No Facero la parrucchiera C'era questa ragazza Che lavorava con me Mi chiese Come poteva fare Perché voleva Aprire Un negozio Per i fatti suoi Ce l'ha fatta Attraverso questa Questa cosa Che io Gli dissi di fare Dal momento in cui Lei ha creduto Si è risolto il suo problema Si è risolto il suo problema Perché lei ci aveva provato Altre volte Ma evidentemente Non Non ci metteva il cuore Non ci metteva Non ci credeva Non ci credeva Dal momento in cui Io Le ho fatto presente Questa cosa qua Lei sapeva che Io e te facevamo La wicca Praticavamo la wicca E mi sentiva talmente sicura Per me è stata una soddisfazione Nel senso che Vedere felice una persona Ti fa felice Perché l'intento Perché l'intento poi Di tutto ciò È proprio L'essere felici Il bene Il bene L'intento di tutto ciò È il bene Mamma dice sempre Una frase Ossia Delle parole Allora le parole Bisogna stare attenti In quel momento In quel momento La rabbia è talmente forte E condizionabile Che arrivano le malefatte Veramente Per cui bisogna stare molto attenti Piuttosto a queste cose qua No? Non al fatto che magari Dicono Ma attenzione La tavola di già Oppure Esatto Non è quella L'intenzione È il modo in cui Esattamente Ti fanno le cose A volte è capitato qualcosa Eh io Boh Non so Voglio credere che sia Grazie alla wicca Grazie alla magia Che feci Sempre tramite il libro Giovani streghe È stato un periodo Abbastanza brutto Perché ci eravamo Appena trasferiti Che conturi In graga Dico mi sono dovuta Struccare Dovrei far tutto Venivamo comunque Da una situazione Dove io Non avevo amiche Perché avevamo già fatto Ancora prima Un altro trasloco Poi vi racconterò Un'altra serie Di questi video qua E succede Che io Sentendomi sola Anche sotto Comunque Presa in giro Da compagni Essendo quella nuova Bla 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 Mi sentivo Veramente esclusa Mi sentivo Cioè non avevo amiche Mi sentivo sola Quindi avevo fatto Ai tempi Mi ricordo che piangevo Tantissimo Perché volevo un'amica Volevo Un qualcuno Con cui uscire Vedermici Fare le cose Che facevano Le normali amiche Confidarsi Guardavo Poi sono sempre stata Una che si attaccava Ai film Ciao Vai sotto Di pippe mentali Perché anche io Non ho un'amica Vedevo quattro amiche Un paio di jeans Ci rimanevo di merda Perché non avevo Un'amica come loro Tutte queste cose qua Poi l'adolescenza Si sa È un brutto Brutto e bello Un brutto e bel periodo E quindi Ho fatto questo incantesimo Per avere un'amica Per incontrare Un'amica O avere delle amiche O essere accettata Adesso non ricordo Cos'era bene Questa Devo leggerlo Poi vi saprò dire Succede che Proprio le medie Perché erano Gli anni delle medie Io incontro Sara Come sapete Sara Ve l'ho portata Sul canale E vabbè La vedete anche Nelle storie di Instagram Sara Si era trasferita Anche lei Dalla Sardegna Da poco E una nostra Amica in comune Una compagna Di classe Così Ci aveva fatto conoscere E la cosa La cosa bella Era proprio Che il mio desiderio Si era avverato Io lo volevo Talmente tanto Volevo talmente tanto Un'amica Che era successo Cioè ti rendi conto Iniziando poi appunto A fare Questa esperienza Nuova per noi Abbiamo anche imparato Un po' A conoscere Alcune piante Quelle che crescono Comunque selvatiche Perché erano proprio Quelle che servivano L'artiglio del diavolo Si non mi viene in mente La parola Si è vero L'artiglio del diavolo E avevamo la fortuna Di abitare vicino al bosco E che bosco raga E facevamo lì Anche gli incantesi Mi ti ricordi Che bello E' bello Si Mi manca un po' Stavamo a raccogliere Ci eravamo procurati No Ah si perché poi Devi averlo no Nel tuo Si Uno bianco La tame E Adesso mi ricordo più Perché ho perso un attimo La presentava Uno serviva Quasi anche come Bacchetta magica Perché non avendo ancora La nostra bacchetta magica Esatto E E quindi Lo si utilizzava Sull'altare Invece l'altro Invece Quello bianco Serviva per tagliare Appunto le erbe Ci sono Un sacco di siti Che spediscono Anche Diverse Cioè cose che magari In erboristeria Non hanno La salvia bianca La white sage Che serve per purificare L'ambiente Io Anche lei Abbiamo entrambe La white sage Quindi la salvia bianca Che è Principalmente Legata Esattamente Quindi si brucia Si purifica E poi E poi abbiamo Per tantissimo tempo Ma ci ha avvicinata A tante altre pratiche Come dicevamo prima Poi vabbè Lei è diventata Buddista Poi ho provato Ad avvicinarmi Anche al buddismo Ho praticato Io non mi definisco Wiccan Sia perché Quando l'ho praticata L'ho praticata da piccolina Quindi non ne so Tanto 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 Cioè sicuramente Avrò detto anche qualche cavolata Perché Non mi sono più Dedicata Come magari Potevo fare Ai tempi Da piccolina Però non mi ricordo Tante cose Però Mi ha aiutato Ad approcciarmi A tante altre pratiche A capire In realtà Che il senso Di tutto ciò È pensare positivo E Credere in quella cosa Cioè Il contorno Ti serve a crederci Ancora di più Tutto quello che fai Il rito Le paroline Il bruciare questa cosa Ti aiuta A crederci ancora di più A stare ancora A stare bene Capito In realtà Noi potremmo fare Ma tantissime cose Quindi questo serve Per Aiutare A prendere Consapevolezza Consapevolezza Essere più Positivi nella vita Più buoni Cresce l'autostima Di se stessi Cioè Ci sono tante cose positive Esatto E l'amore anche Perché Non ti fa fare cose Contro Ma anzi Addirittura C'è scritto In questi libri C'è scritto Che non va affatto il male Perché un po' Come nel buddismo Tutto ciò che fai Ti ritorna Una cosa bellissima Che facevamo Quando avevamo preso Quegli infusi La frutta Strane Perché poi Noi Ogni fine rito Prima di chiudere il cerchio Ci godavamo Questa la dobbiamo dire Ci godavamo il cerchio Ci godavamo il dopo rito Sembra una parola unica Dopo rito Tocco rito Stando dentro al cerchio Preparavamo Che ce lo portavamo dentro Oppure lei lo andava a fare Quindi usciva dal cerchio E rientrava E come facevamo? Per uscire dal cerchio Dovevi fare Una specie di porta Una specie di porta immaginaria Che partiva Da per terra Dove avevi fatto il cerchio E in senso Antiorario Quindi come quando Lo vai a chiudere Aprivi la porta Uscivi La chiudevi Perché non dovevi fare uscire Entrare altre energie E poi facevi la stessa cosa Per rientrare E si sentiva Ve lo giuro La differenza di temperature Non c'era niente Cioè c'era il cerchio Ma il cerchio Era una cosa Che facevi visiva Mentale Ci dovevi credere Mentre facevi il cerchio E dicevi Ma si sentiva La differenza Di caldo e freddo Da dentro E fuori il cerchio Era Non so se ti ricordi Una volta abbiamo fatto Questa cosa Fuori All'eperta Sì è vero Abbiamo fatto il cerchio E c'era questa candela Che Cioè Facendo il cerchio La candela Rimaneva Con la sua fiammellina Così molto Dritta Sì Quando poi abbiamo aperto Il cerchio Cioè Quando poi sono uscita E si è E si è Quasi Come dire Scontrata l'aria esterna Con quella interna Uno dice Eh ma perché Tu ti sei mossa Per cui No No ve lo giuro No perché poi dopo Cosa abbiamo fatto Per avere la prova Cosa abbiamo fatto Abbiamo Chiuso il cerchio Per cui siamo usciti Abbiamo smesso Di fare il punterito E la fiammella E la fiammella della candela Continuava Continuava a muoversi Anche a stare lì Perché le prime Eravamo noi Nei primi Momenti Di questa Di questa cosa Che facevamo A essere così Rimanevamo bocca aperte Ma guarda cosa succede Sì per noi era tutto Era tutto nuovo E quindi credavamo Automaticamente A quello che ci succedeva Perché non partivamo Scettiche a fare Questa cosa Ma partivamo Cioè Positive No Dicevamo Vediamo dove ci porta Questa cosa Quindi dicevo Scendo dal cerchio Entrando dal cerchio Mamma andava a prendere Ad esempio La roba che Ci serviva per mangiare Quindi preparavamo Dei biscotti fatti in casa Il tè Con questi infusi E quindi poi Bevavamo il tè Mangiando i biscotti Ringraziando Tutto quello che avevamo fatto Poi durante Durante questa Questo rituale No Ed era bellissimo Perché mi ricordo Proprio che Mangiavamo questi biscotti Ci raccontavamo Delle cose Stavamo bene C'era proprio Un'aria positiva E niente Questo ricordo È proprio Fisso nella mia mente Me lo ricordo bene 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 Mi piaceva un sacco Per quello che voglio Tornare a fare queste cose Ed era nella tua cameretta Ed era nella mia cameretta Sì Ma io so Che in realtà Voi siete qui In questo video Per scoprire Il nostro libro Delle ombre Facciamo entrare Il libro Delle ombre Libro delle ombre Libro delle ombre Fatto da noi Cioè questo Ce lo siamo costruito Io e la mia mamma Veramente trash Lo so Trascissimo Però questo è il nostro libro Delle ombre I tempi ci piaceva L'avevamo fatto A me piace ancora adesso Qua esatto Per affrontare i cambiamenti Nella vita Crescissimo la scritta Se lo passiamo Poi abbiamo I primi incantesimi Quindi per sapere le cose Mai finito Questo in effetti Non si possono sapere le cose E' fatto con L'inchiostro trasparente E' vero Oh mio dio Quindi vuoi dire Che se metto la UB Si legge Si dovrebbe No raga Vi ricordate quelle penne Che si usavano Gli anni 2000 Che facevi tipo I diari segreti Fino anni 90 Inizio 2000 Avevo la penna Con l'inchiostro trasparente Che poi va alla lucina Giravi Si vedeva Quello che avevi scritto Questo è fatto Con l'inchiostro trasparente Che magiche Mamma mia Cioè streghe Da 2004 Sto male Qua spiega Dove dovete mettere Ad esempio La ciotolina Della terra A nord Sale marino Infatti Che simula la terra Aria incenso A est Acqua ovest Che può essere Vetro Cristallo Con dentro acqua E poi candela Sud Che è il fuoco Quindi una candela Bianca Accesa E qua ad esempio Ci sono le cose trash Che ho fatto io Perché amante Come vi dicevo Di streghe Avevo iniziato a fare Queste cose qua Ti stai facendo del male Mamma No No E grande E vabbè niente Queste cose un po' in inglese Un po' in italiano Ah poi qua c'erano Tipo delle Dicerie Sugli elfi E sulle Sulle fatine I quadrifogli Si dice siano Magici Perché Aiutano Se messi in testa O se si fa Un unguento Così avevo letto Un unguento di quadrifogli E Lo si stende sulla fronte O sulla testa Comunque E' possibile vedere Le fatine Le fatine Non sono esseri Poi così Simpatici Sono molto Dispettosi C'era la storia Di questa donna Che ho trascritto Poi sul libro delle ombre Che per sbaglio Quando stava raccogliendo Il latte Dopo che aveva Dopo che aveva Monto la mucca E aveva preso il secchio Appoggiandoselo sulla testa Aveva strapato Per sbaglio Dei quadrifogli Che culo tra l'altro Perché è difficilissimo Trovare dei quadrifogli Ce li aveva in testa E aveva visto le fatine Che gli stavano facendo I dispetti E i bambini Tra l'altro Questa cosa è verissima E ve lo racconterò In una nuova puntata Di questa serie di cose I bambini Essendo comunque anime pure Non condizionate Dalla vita Di un adulto O comunque Dai pensieri di un adulto Così Possono Vedere determinate cose E sentire determinate cose E ve lo assicuro Proprio così Perché è successa La sottoscritta E me lo ricordo Come se fosse successo ieri Ma questa è un'altra storia Mamma mi vuole far vedere Infatti mi metto il mascara Allora Questa è la scopina Fatta con il ramo di nocciolo Poi abbiamo la bacchetta Questa qua È fatta con un quarzoielino Il ramo intorno Bibidi babidi Bu Ma la sua è più bella Mai mi ha dato quella poraccia Che bella la tua Ho notato che veramente Tante persone Si stanno avvicinando A questa pratica È una cosa Bella Perché comunque Spero che si documentino di più Perché lo farò anche io In primis Ma Spero si avvicinino Questa cosa Per stare bene Non per mostrare E basta qualcosa Al mondo Cioè Esatto Allora Questi due libri Li abbiamo Li ho acquistati Dopo il primo di Cunningham Di Scott Cunningham Questi qui sono fatti Da un italiano Ma I poteri della magia Bianca Bianca Eh Primo E secondo Io mi sono protetta Al trucco Brava Hai fatto bene Ho fatto Trischene Trischene Insomma Mi sono messa A disegnare Qua E è già la mia faccia Ma io ce l'ho qua Eccolo qua Esatto Ho disegnato praticamente Questo qui E il mio trucco Direi che è completo Il mio Terra e fuoco E il tuo Acqua e aria È completo Comunque Per maggiori informazioni Noi vi consigliamo Questi libri Quindi di Eric Pierre Sperandio E Wicca Di Scott Cunningham E tutti gli altri Di Scott Cunningham Sono veramente Stra 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 Fighi Ve li consiglio Ve li consigliamo Anche perché ho visto Tante altre ragazze Wiccan Che mi hanno scritto In privato Su Instagram Dicendo mi gloria Acquista anche gli altri Perché sono molto belli E spero che questo video Vi sia piaciuto Ah e scriveteci ovviamente Qua sotto La vostra Non so Se avete mai Se avete mai sentito Parlare della Wicca Se sì Come E se continuate Tutto ora E se vi affascina Questa cosa Se vi è piaciuto Questo video Ovviamente è stato Un po' random Così fatecelo sapere Con un bel pollice in su E commentando Qua sotto al video E adesso passiamo Alla posta di Gloria E noi ci vediamo Al prossimo video La posta di Gloria La posta di Gloria La posta di Gloria Salutiamo Gaia Legorano Ciao Gaia Ciao Marmocchietto86 Ciao Ciao Salutiamo anche Roberta Marzilio Ciao Roberta E poi salutiamo La dolcissima Daniela Tornatore Fidanzata con la bottiglia Di Jagermeister Ti auguriamo Tanti bambini Limoncello Poi salutiamo Darkstar Inside L'abbiamo detto insieme Per ultima Rosy Spanò Ciao Ciao Rosy Questa era la posta di Gloria Se volete essere salutati anche voi Nella prossima Nel prossimo video Nella posta di Gloria Lasciate un commento qua sotto Con l'hashtag La posta di Gloria E commentate come vi ho detto prima Sulla week Qualcosa Sulla magia Insomma Se vi attira la magia E niente Noi vi salutiamo Ci vediamo al prossimo video Spero che qui la mamma Vi abbia fatto piacere Vederla dopo un bel po' di tempo E vi mandiamo tanti baci Tante energie positive Ciao